buongiorno dottore buongiorno dove buongiorno? nella sua stanza a studiare chi è? sono io Monique, posso entrare? si si entra, vieni pure ciao, volevi qualcosa? e beh volevo ingegnere, ci sono anch'io Filippo e t'ho visto? no, cioè voglio dire, t'avevo sentito che stavate facendo di bello? stavate studiando ovviamente si si, stavamo studiando che cosa? stavamo studiando per una recita scolastica, papi si va bene, ma ditemi che cosa? il... il cirano di Bergerac, papi ah bene, non vi dispiace se per caso rimango qui un po' ad ascoltarvi? no, no, resta, resta eh? tanto io mi metto qui buono buono, non vi do fastidio ok, facciamo come al solito? si si ma che state facendo? niente, studiamo papi, studiamo a presente quando il cirano dice e allora retro, scarto, finto, do di stocco è giunto, fermi papà, che ti prende? no, è che, scusa, è che mi sono ricordato che anch'io da ragazzo ho studiato il cirano, si faceva scarto, finto do di stocco è giunto al fin della licenza io tocco no, papi, che c'è? no si si, mi ricordo, faceva proprio così tocco come è venuta? bene, bene c'è anche il resto se volete no, no, no si, era proprio così via